Il giorno bravo è lì, vicino, da te Oggi reale, ormai massimo je ropre sei stato quasi assisi ma io ho appena cercato di avere l'interno No, però insomma via è una roba di meravigliose è un fumo che riconda anche il mondo Eh, è un fumo che richiesta assolutamente e mi raccomando, memorizzato Ci vediamo dopo eh perchè sarà con voi non stiamo insieme Manca rock 5,6,7 ah, cocco Foxpeed Grazie. Allora, intanto grazie, grazie a voi, quest'anno abbiamo fatto questa emergenza all'interno però sarà ugualmente bello e affascinante. Senti, prima di parlare delle iniziative di quest'anno, facciamo un passo indietro, vediamo un po' quello che abbiamo fatto negli anni passati, alcune delle cose realizzate con questa serata. Beh, una in particolare, sono stato da poco in Kenya, vicino a Nairobi, circa 300 km da Nairobi, abbiamo costruito, grazie alla generosità degli italiani, una scuola per i bindi, una zona che non era molto sviluppata, adesso sono 220 i bindi che possono frequentare le scuole primarie e accanto alla scuola anche una grande sala fuori per i valenti, per l'istituzione. Un altro progetto proprio che riguarda il Kenya sarà finanziato con la raccolta fondi di quest'anno, però non soltanto nel mondo ma anche, ricordiamoci, che ci siamo occupati anche di l'Italia. Per il primo modo, c'è il primo e il topo dei mani del terreno e quello che siamo riusciti a fare con questa iniziativa. Anche lì parlo educativo, la scuola materna è costruita, anche questo a tempo diretto.